fermo 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 stia calmo stia calmo non mi si agite e ci do subito tutti gli euro che c'è nel portafoglio ma che cosa dici menchione questo non era da rire si è ringraziato santa rosalia un coppia mi stava venendo a me lo sa ma stupate come ma stupate non ho capito che devo fare ho detto che ti devi masturbare e ti metti da mazzo ma capisci ma subito stia fermo come vuole lei ma stupo ma stupo ma stupo non ce la faccio ma te l'ho appena fatta non ce la faccio l'uomo grande e grosso come a te una volta lo faccio ma stupito altrimenti ti faccio saltare la c'è bella eh subito 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 come a fare eh un attimo ammazzare tutto e ora con un po' di concentrazione lo rifiace a me la si santozzo si a qui se a questo signore che si è offerto gentimenti di darti un passaggio finanziavano! Grazie! Pizzica che femmina! Mia moglie! La vedi che gente di cuore si trova sempre? Amo nena pezzogna!